arrivati pronostico di questa sera 2-1 per noi io dico 0-2 0-2 entriamo e 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 sultare questo stadio e lotta per la cura bella tua città ooo 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 eee eee dove siete vi ti per me è fuori gioco ma l'indiano sei tutti Chi lo salta bianco e nero, eh? Chi lo salta giuventino, eh? Chi lo salta bianco e nero, eh? Chi lo salta bianco e nero, eh? Pubblico di merda, canta con noi! Pubblico di merda, canta con noi! Pubblico di merda, canta con noi! Pubblico di merda, oh! Atalanta, l'omolare, segna! Vai sultare questo stadio e lotta! Per la cura per la tua città, oh! Non c'è paragone! Qui si salta, qui si sta seduti! Oh, c'è! Duvan Zapata! Duvan Zapata! Duvan Zapata! Bravo! Si è munito, frio e l'anziano! Don De Re, il paiasso! Sembrate un cimitero! Un cimitero! Sembrate un cimitero! Un cimitero! Sembrate un cimitero! non ti lasciamo mai ma perché sulle gambe quello là che sei un po' reattivo cazzo bravi raga va bene fine primo tempo 1-0 prendi pallo Duvan bravo bravo che bello guarda bravo 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 scarpone bravo bravo ma pesa che inculato bravo 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 vinci per noi forza 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 fuori 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 sono tutti qua raga via! Mano! è municino avete rubato 30 anni e piangete per un'ammunizione alla croppa di banana via bravi fuori 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 cazzo dai ma neanche angolo 6 minuti di recupero sempre così quando perdono questi fuori 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 grazie a te Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.